Testo, riflessioni sullo spettacolo del bullismo e il cyborg bullismo. Questa mattina con la classe sono andato a vedere uno spettacolo sul bullismo e il cyborg bullismo. Lo spettacolo è stato interessante, ma il bullismo non porta in nessuna parte. Fa soffrire tanto chi lo riceve e mette nei guai chi lo fa. Il bullismo non fa altro che diffondere violenza e sofferenza. Chi usa il bullismo non è forte, ma è solo stupido se la prende con i più deboli ed evita i più forti.